Ciao ragazzi sono Rixi, oggi sono tornato a questo mio nuovo video oggi sono qua per parlarvi un attimo prima dell'inizio della partita che state per vedere perchè me l'avete consigliato in uno dei vecchi video nei commenti di appunto almeno salutarvi inizio video prima di farvi vedere una scream così a caso comunque la partita che state per andare a vedere è un uplink Biolab fatta nel torneo che serviva per qualificarsi alla Pro League Italiana di Playstation 4 se vi interessa siamo riusciti a qualificarci non stavamo giocando con Gaetano, Gario ma con Savi Ultras perchè a Gario esplosa la play a causa di un fulmine e quindi ci siamo iscritti a questo torneo proprio già con l'idea di giocare con Savi solamente che abbiamo fatto usare l'account di Gario perchè ci piaceva di più avere tutti e quattro i nomi WFL e niente io spero che questa partita vi piaccia e vi lascio al video 1 shot dentro 07 viola 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 dai Nassi scoglione hanno pushato violentamente palla bravo 1 shot è bravo presa bravo è perso 1 biolab biolab presa dentro casa inutile uno spawn palla leo miss uno è largo viola uno dentro viola dentro viola dentro viola viola one shot presa vai vai butta fuori oddio uno sul spawn della palla presa uno 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 chiudi pezzo di via raga vaffalculo mi stai a caso di male i ragazzi sono su reset è heart breaking viola viola 2 2 viola 2 1 sulla palla sulla palla presa raga che sono 8 però non ci siete voi 1 top asserella verde one shot eh no ha presa 1 top asserella verde è top palla top viola palla top viola dentro viola presa casa inutile palla bravo prendetelo bravo leo te poteste andare a fancule spegnere tutte uno è sul risponde la palla risponde la palla raga è vicino prima postazione è vicino prima postazione non ci credo riparto non riparto no me l'ho perso palla top seconda hill palla one shot è morto sta rimbalzando oh raga ero dentro sta facendo dei danni con la palla no ero io ero io ero io uno viola top viola la palla ma che cazzo fa raga io non capisco da tirata neve preso 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 tirala fuori uno è biolab tirala fuori raga ce n'era uno biolab dai biolab preso biolab preso è neve con la palla raga preso bravo non partite da green siamo nati viola ce l'avete green raga vieni prima hill eh preso vai vai mi ha preso uno prima hill raga sul loro punto sono due sono due bravissimo cazzo veloci non hai consegnato so spanato arancione io raga so spanato arancione prima postazione è da biolab uno prima hill uno prima hill prima postazione guarda palla presa uno biolab due biolab due biolab due biolab eh raga mi è caduta la palla in mano tre sono in biola raga sono tre in biola uno neve un altro neve due neve due neve cazzo bravo vabbè raga fa schifo sta mischia uno top biola top biola one shot preso un altro un altro casa inutile raga sulla palla ce n'è uno ce n'è uno sulla palla uno biolab l'ultimo biolab raga se la tirate la loro io ci sono se vuoi passamela l'hai fatto da uno non ci credo vabbè dai oddio che ucciso prima hill sul loro punto raga sul loro punto vai via l'abbepe vai via l'abbepe si si già ci sono già ci sono si bravo bravo bravissimo giallo tre da palla arriva bravo l'ultimo l'ultimo è lì l'ultimo è quello raga dov'è fallo da uno fallo da uno fallo da uno eh non ho presi due ce n'è un altro va bene bravi raga dai c'è un un stio di merda di dynasty che mi sta facendo bestegnare in aramaico si ma io solo una cosa io non ho capito cioè Gianluca me l'ha passata no io ho fatto il dunk e ci ha dato il punto da uno no lo so l'ho lanciata io ah ok io pensavo me l'avessi passata perchè veniva verso di me io stesso sembra che fosse un passaggio c'è stato il tiro del passaggio no io non ve l'ho tirata no non sapevo se hai detto non te mattano da lì oddio uno biolab one shot one shot biolab è one shotissimo ma cos'è uno back viola top viola bravissimi ragazzi sono da loro se la tirate sono da loro ne ho preso uno passa passa me la passa eh sono morto sono morto vabbè dai dai riparto non riparto non riparto non riparto uno uno l'ho preso l'ho preso eh troppo raga l'ho preso eh non c'avevo colpi lo fanno da è dietro è dentro 8 la palla raga dai è scappato cosa sta facendo 2 3 bravi 3 la missata è insata ok è morto prende la palla usci io vado biolab è 07 è 07 è 1 è 1 è 1 è 1 1 1 top viola sul punto 1 sul punto 1 ho la R si ma attenti attenti che prendono la palla allo spawn ma le cazzo è viva va beh è venuto 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 oh ma dai un attimo starò un po' di coglioni è prima io l'attenti eh lo so raga farà l'Ebola tra un po' top 8 la palla one shot raga sta attirata sei un coglione no la dietro passa la verde passa la verde si brava bravi stirala fuori buttati fuori bravi uno è viola uno è dentro viola ferito è sul l'appunto ce ne sono due l'altro l'ho preso 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 uno neve due neve due neve ce l'hai due neve uno neve preso uno neve preso un altro one shotissimo neve sono due uno l'ho preso finito i colpi finito i colpi stop fallo fallo da uno e ci riesco bravissimo bravo ce n'è un altro seconda heal preso un altro ancora seconda heal raga sono stunnato e morto in pratica raga poi passatela se volete raga ce n'è uno seconda heal one shot e niente sono morto niente non è particolta one shot one shot neve sulla palla prendiamo il drone dove vanno bio lab raga due bio lab uno tre bio lab ne ho presi due l'ultimo palla va arancione arancione bravo lab pure missata bravo scalso bravo scalso sulla palla sì sì ecco il testo di teretora ah su ebola di merda che continuo a far run palla presa bravo un altro 8 8 8 one shot one shottissimo 8 bravi non è il nostro spawn mi viene dal nostro spawn raga adesso non da loro se la tirate ne niente torna viola torna viola uno viola viola uno viola buono viola 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 one shot viola viola ce n'hai uno già lì uno in neve bravi la palla è scesa raga è scesa la palla one shot in neve uno è stunnato con seconda il non ho più colpi prendo io la palla che non ho colpi vabbè vabbè viola viola neve one shot neve un altro biolab che guarda arancione uno neve ferita due neve due neve dove va questo uno dietro ce l'abbiamo top seconda top asserenda top asserenda il drone è in mano alleata il drone è a terra io sto vedendo cose surreali io sto vedendo cose surreali dynastic non prendere pallonate il drone è nostro il drone è sponjato sto accendendo il ventilatore passatela da loro passatela da loro dicendo che hai fatto schifo questo eh bravi scusata si prende bravi bravi scusata su bo su bo su bo su bo ah andiamo a giocare contro la page di un drone è un po' si è di più oltre che se va tra i due tra noi due loro sempre loro non siamo nulli Grazie a tutti.